Le carenze di organico tra le forze dell'ordine non siano un alibi. Le estorsioni e la criminalità si combattono anche grazie alle denunce dei cittadini. Lo ha detto sabato a Bari il vice ministro dell'interno, Filippo Bubbico, partecipando alla presentazione della nuova associazione anti-racket con sede in piazza Aldo Moro. La diffusione delle associazioni anti-usura, anti-racket, serve esattamente a questo, così come serve molto la presenza delle associazioni di cittadini per qualunque finalità, perché stare insieme significa condividere delle esperienze e condividere anche un impegno per affermare i principi di legalità. La presidente dell'associazione Giuseppina La Carbonara è una commerciante titolare di un negozio del quartiere Carrassi di Bari, vittima cinque anni fa di estorsione da parte della criminalità locale. Nel mio negozio è venuta una persona appartenente a una cosca abbastanza pericolosa del mio quartiere, dove vivo, e ha incominciato a chiedermi dei soldi mensilmente. Ho incominciato a pagare per paura per i miei figli, la mia attività, però diventavano sempre più pesanti le richieste, non avevo più denaro da offrire, non avevo più niente. Hanno incominciato a chiedermi l'attività, un'attività che avevo portato avanti, con tanti sacrifici, per i miei figli, per la mia vita, e non era giusto che in un attimo andasse via tutto per delle persone indegne di vivere. E allora ho capito che veramente bisognava denunciare, non c'erano via d'uscita. E ho preso coraggio e ho fatto questo, e ne sono orgogliosa oggi di essere qui, e annunciarlo a tutti chi sono realmente. Nel primo trimestre del 2015, tramite le associazioni della provincia di Bari, sono stati erogati oltre 100.000 euro ad un commerciante vittima di estorsioni e altri 2 milioni di euro a tre vittime di usura.